Vi devo rivelare un'indiscrezione che mi è arrivata questa mattina direttamente da Parigi, direttamente da Parigi. Ieri intorno alle 12 e mezza la signora Audrey Azoulay, segretario generale dell'UNESCO, stava pranzando con qualche suo collaboratore quando gli è venuto in mente lei grande appassionata di calcio e ha detto ma scusate ma subì in sport, non trasmettono la partita delle 12 e 30 del Milan? E un suo collaboratore? Certo, certo, guardiamola mentre mangiamo. E mentre erano a pranzo, intorno erano già al dessert, c'era una bella il flottante che stavano gustando, intorno alle 2 e 10 la televisione, stavano distratti, sentono l'urlo del telecronista e vedono la meravigliosa rovesciata di Zlatan Ibrahimovic. La signora era sorpresa, non tanto il suo collaboratore perché già tifoso del Paris Saint Germain aveva già ammirato le prodezze di Zlatan con la maglia del Paris Saint Germain. Al che alla signora Azoulay, segretario generale dell'UNESCO, è venuta in mente una cosa. Ma quanti sono i siti patrimonio dell'UNESCO in Italia? 55 gli ha risposto, come in Cina. Ma perché non mettere un cinquantaseiesimo a Milano, dove già abbiamo per esempio l'ultima cena di Leonardo alla chiesa di Santa Maria delle Grazie? Perché non mettere il cinquantaseiesimo sito? Non è un patrimonio culturale, non è un patrimonio naturale come la costiera amalfitana, come altri luoghi meravigliosi dell'Italia, però potrebbe essere un patrimonio sportivo. Ed ecco che stiamo già, stanno già valutando finalmente di rendere, di eleggere Zlatan Ibrahimovic patrimonio dell'umanità. Troppo straordinario. Ha 39 anni quei gol. Le cifre, 14 più 5, 19 dopo in questa stagione, 22 volte decisivo su, fra assist e gol, da quando si è ripreso a giocare, delle statistiche straordinarie di Zlatan Ibrahimovic. Oggi ci sono tutti ovviamente i grandi omaggi per il giocatore rosso-nero. Ed è stata una scelta che non mi ha mai sorpreso quella di puntare, o meglio la scelta di puntare su Ibra non mi ha mai sorpreso l'esito, non mi ha sorpreso l'esito di quella scelta. Cioè un esito totalmente felice, totalmente azzeccato per il Milan. Perché era troppo scontato dopo che io l'ho visto giocare nel derby di Los Angeles. Uguale come sempre. Ed è lo Zlatan di oggi che non perde un duello aereo, che regala gli assist, che segna gol straordinari. E quindi non c'è nulla da sorprendersi. Mi piace l'idea che possa essere letto, ovviamente, scusate, sto scherzando, sto esagerando, patrimonio, ma a livello di patrimonio sportivo dell'umanità ci sta la grande Zlatan Ibrahimovic. Non esiste che non abbia mai vinto il pallone d'oro Zlatan Ibrahimovic. E sai, non ha mai vinto, non ha mai vinto una Coppa dei Campioni o una Champions League. O una manifestazione di alto contenuto a livello di premio, a livello di trofeo. E allora? Un giocatore che ha vinto in tutti i campionati dove è andato. Un giocatore che da vent'anni è il simbolo delle squadre dove va. Il giocatore che dove va vede crescere i compagni, vede crescere l'autostima e non c'è il pallone d'oro. Nessun problema, lo facciano veramente patrimonio sportivo dell'umanità. È giusto così, è giusto così. Oggi si parla di lui, tutti riconoscono delle cose che noi diciamo, che noi, voi, dite da ormai settimane l'importanza, o da mesi, l'importanza di Zlatan Ibrahimovic. E io, ancora una volta, mi piacerebbe fare un salto a Zingonia e ringraziare Gasperini. Grazie, mister. Quel 5-0 impietoso, crudele, totale, ha permesso ai dirigenti del Milan di capire quanto fosse importante l'arrivo rapido, immediato, importante di Zlatan Ibrahimovic. Senza quel 5-0, magari il 2-1, che a livello di classifica non sarebbe servito a niente, perché sconfitta è, sconfitta è stata. Ma così crudele, così impietoso a scoperchiare tutti i difetti di una squadra giovane, una squadra di prospettiva, ma non di più, ebbene quella sconfitta. Ringraziamo ancora Gasperini perché mai ha detto ai ragazzi, 2-3 a 0, calma, non ci interessa. No, andate, andate, picchiate. E quelle sberle sono state salutari per l'ambiente del Milan, soprattutto per i dirigenti, che hanno capito presto quanto sarebbe stato importante un leader come Zlatan Ibrahimovic. Ieri scherzava, ha detto, eh beh, ma se Maldini non mi firma subito non gioco più. Ma io vi ho detto, non ho mai avuto dubbi, vi ricordate? Che vi ho detto che vuole battere il record di Totti e segnare da giocatore, scusate l'aggettivo, diciamo meno giovane, io la parola vecchia non la voglio usare, meno giovane a segnare in Champions League. E sarà lì a segnare in Champions League, a regalare asset in Champions League, se il Milan sarà così bravo di conquistare una posizione in Champions League. Perché qua non è che si fanno i trionfalismi, si usano sempre i se al momento decisivo. Se il Milan sarà bravo e continuerà questo meraviglioso trend che lo potrebbe portare in Champions League, speriamo. Adesso Zlatan, è stato splendido ieri, un'altra affermazione significativa. lasciate che tutto cada sulla mia spalla, la pressione. I ragazzi pensino ad allenarsi ed è stato un altro bel modo di fare da leader. Ci sono io, non preoccupatevi, voi giocate, divertitevi. La pressione, le critiche, me le prendo io ad andarsi qualcosa male. Questo è Zlatan Ibrahimovic, scusate. Per me, per voi, per tutti. Il nuovo, il nuovo patrimonio sportivo dell'umanità. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Elegate.